Ben trovati al consueto appuntamento con il meteo e con le previsioni del meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, per quanto riguarda le previsioni attuali, cosa possiamo dire ai nostri telespettatori? La primavera meteorologica, iniziata il 1 marzo, ha finora mostrato la sua vera identità relativamente al campo termico. Abbiamo assistito a sbalzi di temperatura anche notevoli da un giorno all'altro, una condizione che rientra nelle normali oscillazioni di questa stagione, per cui non deve destare alcuna preoccupazione. L'anomalia, invece, riguarda il campo pluviometrico, con precipitazioni che finora sono risultate molto scarse. A questo punto della stagione, considerando che nel mese di febbraio è piovuto pochissimo, serve acqua. Occorrono piogge di una certa consistenza prima dell'arrivo della bella stagione e nei prossimi giorni non si intravede nulla di tutto ciò. Anzi, assisteremo ad una fase di tempo prevalentemente asciutto, con temperature ben al di sopra della media stagionale. E per sabato 16 e domenica 17 marzo, come saranno le condizioni meteo? Per domani, sabato 16 marzo, avremo cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata. Tuttavia, nottetempo e al primo mattino, avremo la formazione di dense foschie e banchi di nebbia su tutte le aree pianeggianti e nelle vallate interne della regione, in modo particolare nel Vallo di Diano. Temperature insensibili, aumento nei valori massimi, con punte anche oltre i 20 gradi centigradi, venti deboli da sud-ovest e mare quasi calmo. Per domenica 17 un fronte perturbato interesserà le regioni settentrionali, condizionando lievemente il tempo anche sul versante tirrenico della nostra regione. Il cielo si presenterà irregolarmente nuvoloso con una maggiore copertura in prossimità della costa, dove sarà possibile qualche debole piovasco nel corso della giornata. Temperature stazionarie su valori al di sopra della media del periodo, venti deboli generalmente meridionali e mare poco mosso. E per quanto riguarda la tendenza della prossima settimana, cosa puoi dirci? Lunedì è prevista la formazione di un vortice depressionario che dalle regioni settentrionali si muoverà verso sud-est, interessando la nostra regione nella giornata di martedì 19. Dunque, un moderato peggioramento potrebbe interessarci tra martedì e mercoledì, con temperature in diminuzione, ma per maggiori dettagli invito i telespettatori a consultare i prossimi aggiornamenti che verranno pubblicati sul sito www.meteosette.it.